ciao ragazze bentornate nel mio canale oggi vado a sperimentare con la resina infatti ho già indossato i miei fidati guanti che sono pieni di glitter e resina però è normale ritrovarsi un po i pigmenti e glitterini un po ovunque quando si lavora con la resina andrò a sperimentare con lo stampo che mi ha inviato gentilmente la ditta bb craft infatti lo stampo è questo qui eccolo qua non c'entra tutto nell'inquadratura perché è uno stampo gigante questo è l'articolo il codice del prodotto lo trovate appunto anche nel link in descrizione e oggi come qua prima che butto tutto a terra andremo a sperimentare appunto con questo stampo e vi mostro come creare una creazione dall'inizio alla fine cioè non vi mostro soltanto come vado a collare la resina all'interno dello stampo ma una creazione completa adesso sono indecisa se realizzerò appunto un paio di orecchini oppure un ciondolo poi in corso d'opera sicuramente le idee saranno più chiare quindi adesso mi preparo tutte le cosine che mi servono tipo una resina andrò a miscelare il tutto vi ovviamente non vi mostro come mischio la resina e tutto però andrò a utilizzare la resina ipositica della resina però i pigmenti anche quindi vado a miscelare tutto e ritorno da voi come pigmento sto utilizzando appunto questi qui della resina però e ho scelto questo colore questo verde e questo blu ragazzi scusate ma si era spento il cellulare quindi adesso ho cambiato inquadratore infatti cellulare e l'ho rigirato per poter appunto aggiungere il caricabatteria nel frattempo ho realizzato questi due cabochon mischiando i tre colori il celeste il giallo e il verde adesso vado a colare anche gli altri stampi non vi mostro questo passaggio ci vediamo direttamente quando tutti i cabochon saranno asciutti il tempo di catalisi vada per aggiungere appunto una buona durezza va in base ai 24 ore alle 48 ore e questo va in base appunto alla temperatura di catalisi quindi ci vediamo direttamente fra 48 ore rieccomi sono passate esattamente 48 ore i cabochon sono belli d'ori e questi sono alcuni risultati ho realizzato qualche goccia qualche cabochon ovale qualche cabochon quadrato tutti davvero molto belli realizzati appunto con lo stampo di bibicraft sono venuti davvero bellissimi altre in queste tonalità poi ho creato i gialli rosa questi qui sono i rosa sono davvero molto belli questi qui che vedete il pernetto appunto realizzerò il perno per l'orecchino e ho incollato sul retro il pernetto il pernetto sono questi qui piccoli con la base da 4 mm e l'ho incollati con la colla artiglio un pizzichino di colla artiglio appunto ho incollato il perno sul retro adesso andrò a fare una leggera colata con la resina epositica trasparente per andare a fissare ulteriormente il nostro perno per quanto riguarda invece poi i pendenti come nel caso del di questo quadrato sul retro sempre con la resina epositica ho agganciato appunto il perno a vite i perni a vite l'ho presi sempre dal sito di bibicraft questo qui è il codice e questi perni possono essere utilizzati o nel modo in cui vi mostravo prima nel senso agganciarli sul retro con la resina epositica farò più strati ovviamente per inglobare bene il perno ne ho realizzato soltanto uno adesso andrò a realizzare il secondo strato insieme a voi oppure un altro metodo è quello proprio di inserirlo all'interno del cabochon bisogna forare il cabochon con una punta io ho utilizzato questa punta qui in in metallo non fate caso alla parte retro che è una penna ancora non mi deve arrivare il manico quindi mi sono inventata questo piccolo metodo in questo modo sono andata appunto a forare il mio cabochon e poi ho inserito ovviamente la punta è leggermente più piccola rispetto al perno a vite così non do non fare un buco enorme quindi ho realizzato questo piccolo forellino e poi ho agganciato avvitato il perno a vite una volta che l'ho avvitato sono andata di nuovo a toglierlo ho aggiunto un pizzico di resina epositica sono andata di nuovo ad avvitare e poi ho aspettato appunto che il tutto si indurisse infatti che adesso non si svita resta proprio all'interno della creazione e questo è appunto il risultato se vedete appunto che il perno un pochettino si vede perché i cabochon li ho realizzati un po' trasparenti vedete pure sul retro un pochettino si vede però non non mi dispiace prossima volta sicuramente starò più attenta e caso mai prima di aggiungere un perno o di aggiungere appunto il perno a vite andrò a fare una colata di resina epositica sul retro in colorazione bianca o in colorazione nera a seconda del colore del cabochon se la colorazione del cabochon è un viola un blu intenso una colorazione nera andrà ad enfatizzare il cabochon se invece è una colorazione tenue tipo un verde un celeste oppure un rosa chiaro andrò a fare una colata con la resina epositica bianca così da andare appunto a creare una base per poi agganciare per poi applicare il pernitto niente adesso vado a miscolare la resina epositica per andare a fare lo strato sul retro dei miei cabochon e poi dopo andremo a montare il tutto vi mostro velocemente come vado a realizzare la parte retro e poi vi lascio appunto al montaggio di tutti questi cabochon rieccomi ho preparato la resina e adesso davvero pochissima resina alla volta vado a ricoprire a fare uno strato leggero sul retro del cabochon questo passaggio ovviamente vado a farlo anche per gli altri vernetti questi qui con il perno quindi poca resina alla volta questo passaggio sul retro potete anche tranquillamente farlo con la resina uv senza aspettare i termini i tempi di asciugatura perché la resina uv basta basta inserirla in lampada un v e si catalizza dopo alcuni minuti così potete tranquillamente passare agli step successivi poi ovviamente su alcuni perni se voglio aggiungere qualcosa sotto pendente vado ad aggiungere anche un pernetto così a vite parallelo al perno questo qua che va inserito poi al lobo per andare poi ovviamente ad aggiungere i pendenti sotto rieccomi questi sono alcuni cabochon realizzati appunto con lo stampo di bibica ne ho realizzate in diversi colori questi li devo ancora aggiungere il pernetto e il perno al lobo invece alcuni già li ho lavorati e già li ho assemblati e adesso ve li mostro vi mostro cosa ho creato allora questo paio di orecchini dove erano molto carini con il pigmento rosa due cabochon uniti da questo chiodino con questa perlina gialla sempre presa dal sito di bibicraft questo è il retro con il perno a vite e il perno al lobo questo è appunto il primo paio di orecchini poi a fine video ve li mostro anche indossati questo è il secondo con il perno in acciaio sempre di bibicraft questa stellina davvero molto carina e poi ho aggiunto questa goccia in resina in questo caso l'ho forata l'ho forata e poi ho aggiunto questo perno a vite davvero molto carini e estivi questo è il secondo poi ho realizzato questi qui che mi piacciono davvero davvero tanto sono molto grandi e vistosi con questo cabochon ho realizzato con tre colori con il celeste, il giallo e il verde ho aggiunto questo connettore e poi questo perno sul retro davvero molto molto carini questo è il secondo poi ho realizzato questi orecchini qui a perno davvero semplicissimi ma volendo possiamo anche impreziosirli in questo modo ve li mostro ho pensato a questa decorazione davvero molto molto carina ed eccola qua ho aggiunto questa madre perla quadrata, forata e poi la goccina sempre in resina la decorazione è posta sul perno, sul retro su questo perno a farfallina e volendo possiamo decidere a seconda del nostro outfit che tipo di decorazione indossare se indossare appunto un orecchino a perno oppure un orecchino più elaborato con questa tipologia di decorazione oppure volendo possiamo indossare un perno semplice a un lobo e l'altro lobo possiamo indossare questo qui con la decorazione sempre con la stessa idea ho realizzato anche questo qui a perno viola però volendo possiamo decorarlo in questo modo aggiungendo appunto sempre una decorazione sulla farfallina sul retro una goccina sempre in resina oppure possiamo decidere di aggiungere questa decorazione qui realizzata con l'ovale possiamo davvero fare un'infinità di varianti oppure aggiungere anche qualche ciondolo così realizzato a cuore possiamo realizzare dei charms in questo caso possiamo aggiungerlo a una catena in alluminio oppure utilizzarlo come ciondolo davvero tantissime tantissime varianti utilizzando appunto un solo stampo quello lì della baby craft io come vi mostravo all'inizio video qui ne ho realizzati altri di cabochon poi sicuramente vi mostrerò successivamente come li ho utilizzati niente ragazzi questi erano gli orecchini che ho realizzato appunto con lo stampo di baby craft e adesso vi mostro anche gli orecchini indossati io come sempre vi saluto un bacione e alla prossima con nuovi video ciao ciao Grazie a tutti.